i veterani pensavo che stava lì signor giudice Samoyedo, Weimar Runner, Bassotto a pelo corto Grazie per la visione Prossimo raggruppamento coppie a seguire gruppi di allevamento e poi razze italiane Terzo posto per il Weimar Runner, secondo per il Samoyedo e vince il Bassottino Grazie per la visione Grazie per la visione